La divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta ha emesso cinque provvedimenti di foglio di via obbligatorio nei confronti di altrettanti giovani che la notte del 20 febbraio scorso in un bar di un centro del Nisseno, diverso dalla loro residenza, avrebbero aggredito violentamente un coetaneo, ritenuto rivale in amore da uno dei componenti del gruppo. Dopo le indagini dei carabinieri e la denuncia presentata dalla presunta vittima dell'aggressione, sono scattate le segnalazioni all'autorità giudiziaria per lesioni personali. Con il provvedimento firmato dal Questore Emanuele Ricifari, i cinque non potranno più recarsi in quel comune per un anno.